Shell I collegamento con pulsante Per il collegamento tramite pulsante è noto negli impianti elettrici civili l'utilizzo del Relay Finder che ha il compito di comandare da uno a più punti l'accensione di luci con la pressione istantanea del pulsante. Il Relay Finder 2701 viene ad essere aggiunto al dispositivo Shell I1 oppure essere completamente sostituito grazie alla possibilità di controllo tramite Shell I Cloud. In pratica il solo pulsante da solo non è utilizzato poiché alla sola pressione della stessa vedremo che la luce si accenderà ma se rilasciamo il pulsante la luce si spegne. Anche dopo aver collegato fisicamente lo Shell I1 il risultato non cambia. Se invece utilizziamo lo Shell I Cloud e entriamo nelle impostazioni su tipologia dei pulsanti vediamo che il controllo del pulsante sarà ad ogni pressione si comporterà come se fosse un interruttore cioè manterrà accesa la luce oppure al secondo impulso la luce la spegnerà. Se si mantiene l'impostazione a pulsante è ovvio che lo stesso si comporterà come tale in questo caso assieme allo Shell I va collegato assieme un Relay. Con il dispositivo Shell I1 e con l'app Shell I Cloud possiamo controllare qualsiasi apparecchio elettrico per tipologia, tempo e modalità.